Musica Più morti in montagna che sul lavoro, numeri allarmanti quelli del soccorso alpino in Bergamasca. Da inizio anno 157 persone aiutate e più di 4.000 ore di interventi, 16 le vittime. A buon punto i lavori per la nuova sede della protezione civile di Vertova, inaugurazione nel 2020 per i 45 anni del gruppo. Ad Albino una serata per ricordare Marco Pantani, ci sarà la mamma Tonina insieme ad ex ciclisti Bergamaschi, gioco di squadra per organizzare l'evento. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo questa edizione con la cronaca incidente stradale questa mattina a Rogno, l'episodio si è verificato poco prima delle 6 in via Rondinera. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, un 25enne e un 34enne. Per i soccorsi sono state inviate sul posto due ambulanze, una della Camugna Soccorso di Darfo Boario Terme e l'altra della Santa Maria Assunta di Pisogne. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Esine. Un altro incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 ad Angolo Terme, in questo caso a scontrarsi sono state un'auto e una moto. Tre le persone soccorse, un ragazzo di 13 anni, un giovane di 26 e una donna di 47. Le due ambulanze intervenute sul posto hanno trasportato i feriti con codice giallo e verde all'ospedale di Esine. Traffico in tilt invece nel pomeriggio lungo la strada provinciale Bresciana 510, nella zona di Marone, nella Galleria Vello. Un camion ha avuto problemi e dal motore ha iniziato ad uscire del fumo. L'autista che viaggiava in direzione Iseo ha subito dato l'allarme sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e due ambulanze. Quest'ultime fortunatamente non hanno però soccorso nessuno. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, la galleria è stata chiusa e lungo la provinciale si sono create code. Controlli in varie scuole della provincia, da parte dei carabinieri della Compagnia di Bergamo. I militari supportati dalle unità cinofile di Orio Aserio hanno svolto dei servizi mirati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, degli scali ferroviari e delle fermate degli autobus, controllando circa 3.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado. I servizi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere. Due studenti, entrambi appena maggiorenni e originari della Valcavallina, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso rispettivamente di 2,9 e 8,2 grammi di hashish sottoposti a sequestro. A Comenduno di Albino, un gruppo di cittadini ha scritto a istituzioni e forze dell'ordine per denunciare una situazione di degrado nel centro del paese e chiedere interventi. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Una lettera sottoscritta da 44 persone ci è stata inviata in redazione per denunciare una situazione di degrado, spaccio e atti molesti a Comenduno di Albino. Questi cittadini hanno scritto a istituzioni e forze dell'ordine per chiedere un intervento. Sono persone residenti nelle vie Patrioti, Rovereto, Santa Maria e in alcune vie limitrofe, e vogliono portare a conoscenza di una grave problematica che da diversi mesi ormai interessa, le vie e in particolar modo le zone antistanti, la parrocchia di Comenduno e le vicine aree verdi. Nello specifico, questi cittadini segnalano che da mesi convivono con situazioni di degrado, sfocianti in spaccio di stupefacenti alla luce del sole, festini a base di alcol e droghe leggere che si protraggono nel cuore della notte con il corredo di schiamazzi, urla e auto clacsonanti. Abbandono di rifiuti post-festa in ogni dove. I vie incluse le piccole aree verdi esistenti, dietro al monumento dei caduti, nel porticato della chiesa. Si assiste inoltre alla trasformazione delle pareti, delle case, nonché del porticato della chiesa, in un vero e proprio orinatoio diffuso, con ben immaginabili conseguenze. Via Patrioti, in orario notturno, viene percorsa a tutta velocità da veicoli contromano, ed è diventato pericoloso rincasare oltre le 21. C'è il pericolo di incrociare queste auto o di incappare in queste bande, i cui componenti a volte lasciano anche i loro mezzi in aree interdette al posteggio. I firmatari della lettera chiedono che le istituzioni si adoperino quanto prima al fine di arginare questi fenomeni, che vedono i residenti praticamente ostaggi a casa loro, senza poter fare nulla se non gridare la richiesta di aiuto e chiamare nei limiti del possibile le forze dell'ordine. La lettera si conclude con un appello alle istituzioni a non abbandonare una zona centrale di Albino a balordi e microcriminalità, nonché al degrado. I cittadini che hanno firmato la lettera di cui abbiamo parlato nel servizio ci hanno fatto sapere di aver avuto un primo riscontro. Il comandante della stazione Carabinieri di Albino, Maresciallo Chiofalo, ha convocato il rappresentante del gruppo al fine di comprendere meglio i contorni della denuncia. Il maresciallo Chiofalo, scrivono i cittadini, ha riferito suo malgrado di essere a conoscenza del problema e di avere già attivato, ancora prima della trasmissione della denuncia, un servizio preventivo che verrà rinforzato al fine di risolvere definitivamente il problema. È stata anche evidenziata l'essenzialità di uno scambio di informazioni fra cittadini e forze dell'ordine. I firmatari ringraziano il maresciallo Chiofalo per il pronto intervento e la sensibilità e professionalità dimostrate. Cambiamo argomento, fanno pensare e riflettere i dati sugli interventi del soccorso alpino da inizio anno. In montagna ci sono state più vittime che sul lavoro. Sono numeri che aprono riflessioni anche sull'approccio alla montagna di cui a volte si dimentica la severità. Andrea Filisetti ne ha parlato con il delegato della sesta delegazione oropica, Marco Astori. Grazie per darci questi spazi, perché comunque riteniamo come soccorso alpino che l'informazione e il parlare di prevenzione sia una delle cose principali per tentare perlomeno di evitare alcuni incidenti e poi tragedie che possono avvenire in montagna. Il ragionamento che ci siamo fatti a seguito anche delle ultime tragedie è abbastanza semplice. Purtroppo la montagna è un posto comunque delicato dove bisogna approcciarsi con i dovuti criteri. Purtroppo gli incidenti in montagna, seppur ce ne sono una buona parte che sono causati anche dalla sfortuna, dalla casualità, da cose che sono difficili probabilmente da prevenire e da evitare. Tanti degli interventi che purtroppo ci troviamo a dover operare in montagna sono dovuti invece alla superficialità, all'incuria, alla mancata preparazione e alla mancata valutazione dell'ambiente in cui la gente si reca. Se guardiamo ad esempio i numeri, quest'anno ad arrivare quindi ad oggi, diciamo fino ai primi nove mesi dell'anno, abbiamo avuto un numero di interventi importante, parliamo di 157 persone soccorse, 157 persone soccorse sono un grande numero, sono un numero abbastanza importante, di queste poi purtroppo 16 persone hanno perso la vita. Se facciamo il ragionamento che in provincia di Bergamo ad arrivare ad oggi sul lavoro hanno perso la vita 12 persone, pensiamo che quanta gente è impegnata al lavoro tutti i giorni e quanta gente invece va in montagna per passione, per svago e realmente sono di più le morti, ahimè, per questa passione che è l'andare in montagna. Sì, senza entrare per forza nel merito perché poi non si vuole penalizzare una categoria piuttosto che l'altra, ma naturalmente l'andare in montagna è una cosa che necessita di preparazione e di cura prima di muoversi. La montagna è un ambiente severo, questi incidenti hanno portato il soccorso alpino già ora, questi nove mesi, a fare più di 4.000 ore di interventi di soccorso divisi per tutti gli uomini, insomma, sommando tutte le ore che gli uomini hanno impiegato e sono 4.000 ore che ipoteticamente anche tutti i volontari del soccorso alpino hanno messo a rischio la propria di salute e di incolumità per andare a soccorrere le altre persone. Calcoliamo che appunto di questi 157 interventi, alla fine 65 sono risultati codici bianchi, quindi persone illese che sono state raggiunte, recuperate o aiutate comunque a rientrare perché erano stanche, affaticate, hanno perso l'orientamento perché non avevano fatto i conti bene con le condizioni meteo per cui insomma, e altri 60 per cui per la quasi totalità sono codici verdi per cui di minore gravità, vuol dire banali incidenti dovuti magari alla calzatura sbagliata piuttosto che a piccole cose che possono tranquillamente essere avitate con un attimino più di attenzione e di preparazione quindi se il consiglio che può dare il soccorso alpino è esclusivamente quello di valutare bene quando si va in montagna bisogna andare in montagna, è bello che si vada in montagna certamente la montagna è un ambiente da frequentare però va frequentata con la giusta attenzione. E di sicurezza in montagna si parlerà anche questa sera a Decoder l'approfondimento condotto da Andrea Filisetti e sentiamo quali saranno i temi della puntata. Sono tre i temi al centro della puntata di Decoder di questa sera vi parleremo delle creste scalvine una pasta ripiena che arricchisce il già importante ricettario della cucina bergamasca poi andremo a Gandino dove sabato 12 e domenica 13 ottobre sono in programma le giornate delle FAI d'autunno sono bene 11 luoghi di interesse aperti con le giornate parliamo di siti generalmente non accessibili infine ci occuperemo di sicurezza in montagna con un focus particolare sul sentiero che porta al Curo purtroppo teatro quest'anno di bene 4 incidenti di cui 2 mortali cercheremo di capire quali interventi potrebbero essere realizzati per mettere in sicurezza in modo particolare il tratto del tagliamento ricordiamo che Decoder andrà in onda questa sera alle ore 20.30 le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23.15 A Vertova sarà inaugurata nel 2020 la nuova sede della protezione civile e siamo andati a vedere come stanno procedendo i lavori per trasformare l'ex deposito della ferrovia Ci troviamo a Vertova vicino a quella che sta per diventare la nuova sede della protezione civile sono in corso i lavori a che punto siete? Sì, i lavori sono a buon punto da quando ci siamo visti a maggio che era stata la consegna dello stabile abbiamo aspettato i tempi tecnici per tutte le domande e poi abbiamo iniziato i lavori i lavori sono stati fatti da tutti i volontari tranne alcuni particolari per cui necessitano le figure idonee e col patentino però siamo a un buon punto contiamo per fine anno di riuscire a fare il trasloco i festeggiamenti o l'inaugurazione ufficiale però la pensiamo di farla l'anno prossimo perché sarà il 45esimo del gruppo visto che quando è nato è nato nel 75 per cui coincide proprio a pennello con l'inaugurazione della sede Per coprire le spese già un anno fa avevate lanciato una sorta di appello agli imprenditori ma anche ai cittadini di Vertova anche in questo senso a che punto siete? Allora, siamo soddisfatti perché dire che abbiamo ancora grossi problemi sarebbe una bugia chiaramente le spese che andiamo incontro sono tantissime per cui quello che abbiamo raccolto fino adesso non riusciamo ancora a coprire però devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano e sono tantissime persone con delle bellissime sorprese onestamente però ripeto ci manca ancora un pezzettino finale per riuscire a pagare tutto completamente per questo rinnovavo l'appello a chi fosse disponibile a contattarci che poi pensiamo a noi Velocemente come sono stati organizzati gli spazi? Allora, gli spazi sotto abbiamo realizzato un magazzino in cui rimetteremo tutto il nostro materiale e il parcheggio delle due vetture che abbiamo qua davanti la parte sopra abbiamo diviso in tre pezzi il primo pezzo sarà la sala radio tutta attrezzata, chiusa perché chiaramente quando fai interventi che ti serve il supporto radio deve essere insonorizzato, tranquillo non deve avere gente intorno abbiamo creato un'area piccolina però di spogliatoio perché adesso quando ti devi cambiare devi lasciare in giro tutte le tue robe è una sala riunione tutta grande per cui sono 15 metri superiori C'è anche il sindaco di Vertova, Orlando Gualdi naturalmente amministrazione comunale è vicina al gruppo di protezione civile Innanzitutto buonasera a tutti direi che l'amministrazione comunale è vicinissima al gruppo della protezione civile e colgo anzi l'occasione per ringraziare a nome dell'amministrazione ma anche della cittadinanza nella persona del presidente Diego che è anche un amico per tutto quello che stanno facendo io non posso far altro che dire che il sostegno dell'amministrazione comunale nei confronti della protezione civile di Vertova sarà sempre maggiore anche perché noi abbiamo sempre trovato la piena disponibilità anche nel gestire le emergenze e di conseguenza non posso far altro che ringraziarli ripeto e garantirgli la nostra disponibilità la disponibilità dell'amministrazione ad essere sempre vicini al gruppo della protezione civile Aspettate fondi per completare la sede ma aspettate anche nuovi volontari Sì, ecco, mi stavo dimenticando questa è la parte più importante noi contiamo molto che avendo una struttura così centrale e bella onestamente possa tirare un po' l'interesse anche dei ragazzi giovani perché chiaramente il futuro di questi ragazzi possono collaborare tantissimo con la protezione civile per cui l'appello che io lancio ragazzi se avete voglia di fare noi siamo disponibilissimi ci troviamo tutti in mercoledì presso la vecchia sede e ci vediamo qua il più presto possibile nella sede nuova grazie a tutti e per noi adesso una pausa il telegiornale torna tra poco grazie a tutti Riprendiamo con il nostro Tg andiamo a Ponte Nossa dove è stata sistemata la sala mensa della Scuola Materna Santa Maria per i lavori fondamentali il contributo di alcune aziende e del BIM un momento di festa oggi alla Scuola Materna Santa Maria di Ponte Nossa qual è l'occasione? la piccola inaugurazione dal rifacimento della mensa dei ragazzi della scuola dell'infanzia scuola materna in parte asilo nido era un progetto che avevamo in essere già da alcuni anni perché la mensa era la mensa diciamo della scuola che era stata fatta quando la scuola è stata terminata inaugurata nel 1910 tutto il resto dei locali erano stati adibiti sia a Materna che ad asilo nido ed erano stati ristrutturati nell'anno 2004 era rimasto questo pezzetto di scuola che era ancora un pochettino vetusto funzionale per l'amor di Dio però aveva bisogno di essere un pochettino risanata e quindi si sono svolti i lavori per circa una quarantina 40.000 euro con il rifacimento del sottofondo con il rifacimento dei seramenti con tutta una reazione in modo da poter asciugare bene i locali che presentavano non eccessiva ma una buona parte di umidità essendo interrata e che quindi viene a concludere almeno i lavori principali del fabbricato della scuola dell'infanzia che è un fabbricato come ho detto prima del 1910 ma un fabbricato di grossa dimensione poi vedrete poi con le immagini e che quindi aveva proprio nella mensa questo piccolo neo che andava un pochettino risistemato Come siete riusciti a finanziare questi lavori? È stato fondamentale l'aiuto dell'amministrazione comunale in particolare del sindaco di Ponte Nossa a cui vanno già da subito i miei grossi ringraziamenti che ha coinvolto le officine meccaniche ha coinvolto la Ponte Nossa SPA ha coinvolto il Bimba Cinimbriferi ha coinvolto la Sidera che sono quelli che hanno in gestione le centrali elettriche e diciamo noi con le nostre piccole risorse di economia siamo riusciti a coprire questa spesa di 40.000 euro non sarebbe stato possibile solo per la scuola affrontarla le nostre scuole hanno tantissime spese hanno tantissime uscite per la sicurezza per gli ambienti per tante cose quindi è stato fondamentale questa cosa ovviamente la mensa serve ai bambini della scuola dell'infanzia serve ai bambini dell'asilo nido e serve anche allo spazio compiti che la scuola elementare fa che dopo scuola e non avendo la scuola elementare la mensa ci si appoggia a questa mensa della scuola d'infanzia materna e che quindi coinvolge anche lì una 40-45 bambini dalla prima alla quinta elementare che usufruiscono anche loro del servizio mensa quanti sono invece i bambini della scuola dell'infanzia dell'asilo nido e anche quante sono le persone che li seguono quotidianamente? certamente i bambini della scuola dell'infanzia sono 31 e sono inseguiti da due insegnanti che lo addivate poi dalla cuoca e dall'inserviente proprio per quanto riguarda la rifezione per l'asilo nido i bambini sono 16 quest'anno c'è stato un lieve calo sono 16 sono seguiti da tre insegnanti due che vengono al mattino e poi una che continua vengono al mattino in orari diversi poi una che continua nel pomeriggio con l'altra insegnante l'apertura è dalle 7.30 alle 17.30 mentre per la scuola dell'infanzia l'apertura è dalle 8 alle 15.45 fronte c'è Ganzio E senza dubbio uno dei campioni più amati di sempre Chi ha avuto la possibilità di assistere anche solo in tv alle sue imprese Al Giro d'Italia e al Tour de France difficilmente avrà dimenticato Marco Pantani Ad Albino sabato una serata per ricordarlo Pantani, l'uomo, la vita, le imprese Il titolo di una serata in programma sabato 12 ottobre all'auditorium Cuminetti di Albino Perché è una serata dedicata a Marco Pantani? Ma diciamo che è un sogno che coltivavo da parecchio tempo Non avevo i mezzi per poterlo realizzare Finalmente li ho trovati E lo scopo è quello di far conoscere Pantani Pantani, l'uomo, la voglia di farlo conoscere ai bambini Magari che non hanno vissuto le sue imprese E invogliarli appunto anche allo sport e tutto quanto E poi anche a quelli più adulti che hanno saltato sui divani Hanno gioito, hanno tremato per le vicende, per le imprese di questo campione E appunto a loro fa scoprire dei lati, degli aneddoti, dei piccoli particolari del Pantani Del Marco Marco bambino, Marco ragazzo, Marco uomo Però non quelli che solitamente si sentono nelle tv, nelle trasmissioni televisive Che ricordano Pantani, tutto quanto Proprio più profondi e appunto inediti Ci saranno anche delle immagini, dei video Naturalmente che raccontano Pantani Dei momenti musicali con dei brani Brani musicali dedicati a lui Una serata quindi per raccontare il lato inedito di Marco Pantani E quindi avete puntato soprattutto su un ospite speciale Che Marco lo ha conosciuto sicuramente meglio di tutti Sì, mamma Tonina era ovvio Era naturale che doveva essere lei il punto centrale Però ci saranno anche dei ciclisti Bergamaschi, S-Campioni che hanno corso con Marco Giuseppe Guerini, Paolo Savoldelli Mauro Zinetti di Gazzaniga Mi dimentico qualcuno? Vladimir Belli Una serata che vede la collaborazione di diverse realtà del territorio Perché avete sposato questa idea? L'avete poi portata avanti fino alla sua realizzazione Allora Giancarlo mi ha proposto questa cosa A me personalmente è piaciuta subito Poi abbiamo parlato con Crazy Bikers E con la ciclistica gazzanichese E ovviamente essendo tre società di Gazzaniga Che operano anche nel settore e soprattutto nel settore sportivo Non solo ciclistico Ci siamo sentiti motivati a collaborare per questa realizzazione Io personalmente sono tifoso di Pantani Non quanto Giancarlo Ma io stesso ho praticato ciclismo Per cui le imprese di Pantani mi hanno sempre toccato E in società quando ho proposto la cosa Hanno aderito alla grande Ovviamente queste cose così importanti Sono importanti per il territorio Perché la società sportiva Ricastello, Crazy Bikers, ciclistiche gazzanichese Operano principalmente E anche per il settore giovanile Per i settori giovanili dove c'è il futuro dello sport Credo che fosse il minimo che potevamo fare Di appoggiare questa bellissima iniziativa Una serata che ha anche uno scopo di solidarietà Sì, quello di aiutare la fondazione Marco Pantani Fondazione che è stata istituita dopo la scomparsa Da mamma Tonina e dal suo papà Per aiutare le persone in difficoltà Ma soprattutto anche i bambini Ricordiamo infine l'orario della serata Sì, sarà le 20.30 E dalle 19.45 sono aperti i cancelli Per l'entrata del pubblico E ora l'appuntamento con la rubrica Racconti di ieri a cura di Mino Scandella Ci troviamo sempre all'interno della chiesa parrocchiale di Parre Sono tanti i punti di interesse E le opere d'arte preziose Che si trovano all'interno di questa chiesa Ma merita una particolare attenzione anche la volta La chiesa di San Pietro in Parre Ha una sola lavata La volta è tra le più belle e armoniose Sicuramente tra le chiese e dall'Alta Valle L'interno è luminoso Non solo per la luce dei quattro grandi finestroni Ma anche per le tinte chiare della volta L'armonica distribuzione degli stucchi Sulla stessa volta e sulla trabeazione E sulle lesine della navata Che sono in stucco con base di pietra aeraria Ed elineano le quattro campate Con sei altari laterali Il conicione, solido e leggero Sostiene la volta a tutto sesto E apre le quattro campate della navata Sulla volta quattro ovali Contornati da stucchi e cordami E con cartigli a bordi dorati Di sapore classico Inseriti in inquadrature architettoniche barocche Sono dipinte dei medaglioni Dipinti dei medaglioni La professione di fede di San Pietro Il primato di Pietro Con la simbolica consegna delle chiavi La liberazione dalla prigionia Con il doppio registro terreno La buia prigione aperta Dall'angelo E celeste Gli angeli festanti in cielo La visione di Pietro Che prelude All'estensione delle evangeliazioni I pagani Nella volta dell'abside I due ultimi medaglioni Sulla santissima dignità E dell'assunzione Sono opere dovute a due pittori Il bergamasco Francesco Bergametti Gaverina 1815 Bergamo 1883 Buon pittore della seconda metà Dell'800 bergamasco Attivo tra il 1830 e il 1883 Buon ritrattista Oltre che affrescatore E pittore di opere sacre In diversi chiese parocchiali Alcune di queste opere Le abbiamo già viste A Ardeglio Ma anche a Cusone A Cappella Giudici dell'Immacolata Ma anche a Bergamo Caravaggio E in altri posti L'altro affrescatore È il bresciano Carlo Chimeri Fino a 800 Primo 900 Nato a Cremo nel 1852 Morto a Brescia nel 1925 È un pittore Decoratore E restauratore E valente scenografo Decoratore di chiese Di pubblici edifici Ricordiamo La chiesa di Santa Maria Delle Grazie a Brescia La chiesa parocchiale di Chiari Quella di Passirano E il seminario Di Brescia È conosciuto Però più come scenografo Creatore di grandi scene Su legno E cartone Per il Carnevale Bresciani Una breve pausa Poi torniamo Per la parte finale Grazie a Brescia Grazie a Brescia Grazie a Brescia Di nuovo in onda Ci avviciniamo Alla conclusione Del telegiornale Con i programmi Di Antenna 2 Iniziamo dal canale principale Questa sera Alle 20.10 L'Alpino Il notiziario Dell'Associazione Nazionale Alpini Alle 20.30 Decoder Alle 21.30 Hard Track Alle 22 Più Salute News Alle 22.30 La seconda edizione Del telegiornale Alle 23.15 Antenna 2 Sporta Mezzanotte e mezza La terza edizione Del TG Che va in onda Anche alle 21.30 Sul canale 218 Antenna 2 News E sullo stesso canale Alle 22.10 L'anteprima Target Questa sera Un servizio dedicato All'Atalanta Club Tittarota Che è nato Proprio in questi giorni A Lovere Il canale sportivo 628 Alle 20.30 Antenna 2 Sporta Alle 21.30 La partita di calcio Valcalepio Darfo Boario E proseguiamo con L'Almanacco Domani è giovedì 10 ottobre Il sole sorge Alle 7.25 Tramonta Alle 18.49 La luna è crescente Sorge Alle 17.50 Tramonta Alle 4.43 Di venerdì E infine Le previsioni del tempo Domani Su Alpi Eprealpi Lombarde Cielo in prevalenza Sereno Con presenza Di qualche velatura Alta Temperature In diminuzione Ed è tutto Anche per questa edizione Grazie per averci seguito E buona serata Grazie per averci seguito